Una nuova giornata ha inizio e come tale devo trovare il modo di rompergli i c***i. Cosa fai? Tesoro, lavo i piatti. Sicuramente starà giocando alla play. Stai giocando? Sto facendo le pulizie. Guarda, ci scommetto che se va di là c'è ancora il letto da rifare. Oh vabbè, ho rifatto il letto perfetto. Ho pensato anche di cambiare l'enzuola. Di sicuro c'è la cena da preparare. Se arrivo di là in cucina, che è lì a guardare il suo telefono, giuro che stavolta... Alla cena non posso sempre pensare... Eccoci, guarda che cenettina, spaziale. Doro, cos'hai fatto? Hai fatto tutto tu oggi a casa. Quando non faccio le cose ti arrabbi, quando le faccio ti arrabbi lo stesso. No, amore, non funziona così. Le devi fare, ma non troppo. Se le fai troppo, un po' meno. Semplice. Non ho capito cosa devo fare. Non ho ben capito.